e allora vado Roberto Voletano vorrei Roberto anche da te una riflessione su quello che sta succedendo voglio aggiungere però un paio di elementi perché ha parlato stamattina Raffaele Fitto che peraltro è impredicato forse di fare il ministro degli affari europei e ha detto le parole di Giorgia Meloni in risposta al biglietto di Berlusconi non sono pesanti ma sono chiare ha escluso ogni alleanza con azione Italia Viva e poi c'è Maroni Maroni insomma sapete ex ministro ex segretario della Lega che ha detto con Giorgia Meloni il governo durerà a lungo non andremo a votare prima della fine della legislatura ne sono certo perché la Meloni è capace di reggere la Barra e resistere a tutte le strambate allora Roberto intanto che ne pensi cioè mi pare che anche Fiano l'ha detto dice alla fine il governo si farà il governo si farà o questa frattura può provocare danni diciamo diversi può provocare degli smottamenti io però voglio dire una cosa che diciamo che viene prima di tutto quello che abbiamo ascoltato che per la verità condivido anche con le sfumature differenti qui c'è un interesse del paese che viene prima della politica cioè non come le esigenze che c'erano prima di un governo di unità nazionale ci sono adesso al cubo ovviamente però siccome siamo in una democrazia ci si è scelto quindi deve governare chi diciamo i cittadini hanno scelto ma ho visto parlare prima di crisi economica che conoscono tutti di crisi sociale ma quella non so perché totalmente sottovalutata in Italia è la crisi finanziaria cioè io la crisi finanziaria il rischio di crisi finanziaria ne ho capito il giornale oggi cioè voglio dire il il nuovo governo conservatore inglese scusa faccio vedere il titolo del tuo giornale vediamo eccolo qua sbagliando non si impara si crolla e poi c'è tutto un lungo sommario che parte proprio dalla questione della campagna in pochi secondi con dei numeri così è abbastanza semplice il governo di l'istrass e il cancelliere dello scacchiere hanno annunciato una flat tax diciamo all'inglese di abbassare la tasta dei ricchi un corposo taglio che però per l'inghilterra che non è l'italia è un punto di deficit in più quindi tutto sommato 3 8 andava a finire il decol deficit aggiuntivo sì è bastato questo annuncio perché i titoli di stato inglesi diventassero nel giro di un giorno più onerosi dei titoli di stato italiano che sono notoriamente più rischiosi di quelli della grecia tanto per essere chiaro attenzione vorrei parlare sempre con i numeri il governatore della banca di terra ha messo in gioco 65 miliardi dopo tre giorni ha dovuto dire che da 5 miliardi di acquisti giornalieri passava a 10 attenzione siccome la situazione non si fermava minimamente e tre fondi pensione inglese pieni di titoli di stato stavano saltando e quindi quei tre fondi pensioni e potevano essere i nuovi su prime di nuova grande crisi finanziaria perché sono contagiosi cosa ha fatto ha detto compro anche i titoli indicizzati siccome i cancelli i titoli di stato indicizzati cioè con l'inflazione quindi ancora più onerosi quindi ancora più sterline ovviamente tutto questo la sterline è crollata è entrato in recessione automaticamente risultato si dimette il ministro dell'economia lo fanno dimettere ma perché lo fanno dimettere perché il governatore della banca inghilterra ha detto all'istras è vero qui non è la pc è una solitaria è vero io sono la tua banca centrale ma se tu insisti come lui insiste nell'andare avanti io non compro più titoli quindi c'è una lezione per noi non è che è una lezione ma sono proprio è proprio è come proprio noi non possiamo fare scostamenti di bilancio noi dobbiamo insistere e io in questo credo che la meloni possa svolgere un rispetto veramente importante soprattutto se all'economia si fanno delle scelte c'è una forza politica e un rispetto tecnico rilevanti la risposta arriverà dall'europa è l'unica risposta possibile e faccio un altro parallelismo tecnico quando ci fu la prima gaff della lagarde che disse io non sono qui per restringere gli spread bene quel giorno parlai insomma con chi ne capiva non so e mi disse adesso caccerà il doppio comprerà molti più titoli italiani dovrà fare proprio quello è arrivata quasi a 800 miliardi di titoli comprati per pagare i nostri stipendi e le nostre pensioni il cancelliere Scholz ha fatto lo stesso gigantesco errore politico per farvi capire l'entità della crisi 200 miliardi che caccia e fa debito in un biegno ho capito ma quelli li cacciano un biegno ma fra un mese e due se continuasse questa situazione non bastano più certo e poi dico un'altra cosa attacca il mercato comune europeo perché l'impresa tedesca diventa più attenzione ma l'impresa tedesca cosa fa fa le auto e se l'impresa tedesca vive e l'impresa italiana che deve fare il freno per l'auto tedesca muore noi dobbiamo curarci che la Germania va bene allora voglio dire non ce la fa nemmeno l'impresa tedesca e quindi questa risposta europea attraverso un nuovo debito comune attraverso una riforma del meccanismo deve arrivare dopodiché c'è un'urgenza economica e sociale gigantesca gigantesca in italia e bisogna fare di tutto è un scenario molto fosco no è uno scenario non complicato complicatissimo per il quale Salvini e quindi un po' e Berlusconi soprattutto devono capire che il film del posizionamento politico è finito e devono dare una mano alla Berlusconi e lo dovrebbe dare anche l'opposizione pensa un po' a dove arrivo io dovrebbero dare una mano alla Meloni a scegliere persone veramente capaci che condividono un disegno politico per affrontare una situazione complicatissima una cosa però mi verrebbe da dire come fine alle tue riflessioni tu stai dicendo che ci vorrebbe un altro governo di unità nazionale questo stai dicendo non si può fare ma questa esigenza non muore mai cioè nel senso che questi sono i momenti che viviamo noi viviamo un momento di una guerra se vogliamo possiamo ancora far finta di dire guerra mondiale a pezzetti siamo nel pieno di un conflitto di civiltà abbiamo sciocchi inflazionici sciocchi monetari abbiamo le banche centrali soprattutto quella europea che hanno sbagliato politica monetaria hanno sbagliato perché è molto semplice la nostra inflazione è molto diversa da quella americana ma anche lì parliamo con i numeri c'è l'ottanta per cento dell'inflazione europea per il 60 per cento è caro bolletta e per il 20 per cento effetto ucraina sulla filiera agricola quindi cosa c'entra col cento per cento di inflazione americana che frutto di soldi che hanno dato a tutti e che spendono vorrei ricordare che peraltro siccome l'inflazione americana continua a crescere la federa riserve continuerà nella politica di aumento del costo del denaro e questo si ripercuoterà su di noi fiano allora torno al tema europa con roberto napoletano perché e qui si dice l'europa senza l'europa non riusciamo a uscire da questa spirale terribile ti chiedo ma perché l'altro giorno si parlava di una possibile apertura della germania nuovo debito comune qualcuno lo chiama recovery per l'energia andremo andrà l'europa secondo te in quella direzione ho visti tutti i distinguo anche sul tetto a prezzo del gas allora c'è un precedente anche recente che è proprio quello della pandemia la pandemia era un tema cinese e un tema italiano drammatico poi a un certo punto tutti hanno capito che il dramma era comune era francese quindi ecco tutta questa narrativa italiana adesso per carità del premio italiano che chiede ottiene no la merkel macron acquisiscono la consapevolezza che il problema era comune che l'economia europea si sarebbe chiusa e bisognava intervenire oggi la guerra noi siamo entrati in guerra ora non si sapeva quanto durava non lo si sa nemmeno oggi però si sa gli effetti che questa guerra ha prodotto e gli effetti sono comuni quindi nessuno li può affrontare eh beh però è un po' più asimmetrica rispetto al covid no 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 sono talmente asimmetrici che abbiamo avuto la migliore crescita europea ripetiamolo ogni tanto diciamo abbiamo questo orgoglio di questa grande democrazia che era diventato un paese serio diciamolo che sono ben sei trimestri consecutivi che la Germania crolle e l'Italia ha la migliore crescita abbiamo fatto le migliori performance nelle esportazioni nel turismo tu me lo insegni pagano il gas meno di noi è inutile che ci giriamo intorno la Germania, la Spagna no per essere proprio onesti fino in fondo la Germania diciamo ha pagato l'iva al 19% fino all'annuncio dello scostamento mentre nella logica di una politica economica di chi conosce i problemi intervenendo selettivamente subito si portò per le fasce al 4% l'iva quindi si è agito direttamente si è tenuta sulla fiducia si sono fatti i sussidi per le famiglie cioè non si è bloccato né i consumi né gli investimenti ora il tema è maturo secondo me l'ho detto prima perché la consapevolezza comune l'errore tedesco è un errore politico gli errori politici si pagano alla cassa e quindi secondo me qualcosa accadrà in termini di prestito comune non so se proprio di debito comune perché adesso anche il prestito ma l'abbiamo capito, lo ripeto per l'ennesima volta che è cambiato tutto che viviamo in un mondo di alti tassi che la vera minaccia è di tornare all'inflazione a due cifre quindi se ti danno dei soldi allo 0,1, allo 0,2, allo 0,3, all'1% te li stanno regalando perché si continua a dire ma sono prestiti che aggiungiamo e prima erano prestiti che aggiungiamo in un mondo che è totalmente cambiato dove già adesso i nostri titoli arrivi al decennale fino al 4, al 5% questa roba va, diciamo, minimamente quindi io sono convinto e poi voglio dire che c'è un margine italiano perché quello che diceva De Manzioni cioè io lo condivido cioè la gravità dell'economia che si fermi non è che uno vive sulla luna sulla luna vive chi dice che può regalare le cose a tutti quando no io vivo sulla terra quindi lì bisogna intervenire c'è un margine nel bilancio pubblico italiano ci sono altre cose che si possono fare nel bilancio italiano ma bisogna assolutamente vincere a livello europeo e ad agire soprattutto sulla speculazione ma lo dice la Meloni e lo ha detto prima di tutti i draghi in Europa che è l'unico che ha indicato nel meccanismo di revisione della formazione dei prezzi tra mercato elettrico e gas e in un tetto che valga per tutti sia pure dinamico come volete diciamo di colpire l'origine del problema perché ricordiamocelo sempre anche dal punto di vista dei fondamentali dell'economia italiana l'attivo dell'economia italiana dopo quello tedesco che continua a scendere è il migliore oggi è passivo ma è passivo per il caro energetico che deve essere per forza transitorio perché questi non possono essere prezzi di una situazione normale non sarebbero insostenibili non sarebbero insostenibili per chiunque quindi poi c'è un tema che attiene alla Russia alle difficoltà veramente enormi della sua economia alle difficoltà di consenso dentro la Russia non sottovalutiamo quello che ha detto per la prima volta il Mao cinese a vita visto che va verso il terzo domenica il terzo mandato che ha detto attenzione basta non si può bloccare il mondo e ha detto per la prima volta sono contro diciamo le ultime operazioni di Pudit quindi il mondo diciamo voglio dire in una situazione del genere ci sono ancora immagini ci sono delle difficoltà però intanto già parlare il linguaggio del realismo e dire anche agli italiani alle imprese italiane come stanno le cose alle famiglie italiane come stanno le cose agendo perché in questo ha ragione sull'economia bisogna agire ma agire per quello che si può e puntato a ottenere ma lo scostamento concordato di cui parlavate Manzoni con l'Europa lo scostamento lo farà l'Europa noi faremo gli interventi che possiamo fare con i margini di finanza pubblica che esistono se noi guardate ancora ad agosto anche questo ma io dico ma perché non lo si dice mai anche ad agosto la crescita italiana rispetto all'anno precedente cito a mente 2,7 2,9 questo sapete cosa vuol dire che è arrivata più IVA ed è quell'IVA con cui il governo italiano sta pagando quindi tutti gli spazi interni di finanza pubblica quello che non si può fare lo scostamento è per la semplice ragione che tu dai 30 miliardi faccio tu dai 30 miliardi agli italiani poi agli stessi italiani nel giro di un mese devi chiedere 300 miliardi metterai tasse perché non ce l'avrai per collocare i titoli quindi questo è il tema veramente delicato peraltro noi abbiamo già messo in aiuti se ci arrivi in un quadro unitario se ci arrivi in un quadro in cui tutti fanno prestito comune fanno debito comune o tutti fanno scostamento allora è tutto diverso ed è questo l'approdo politico posso tornare se non nessuno vuole aggiungere qualcosa no voglio proprio dire sì un flash sintetico anch'io un flash diciamo l'immagine che ha dato Berlusconi al senato sì e ho detto è finita la seconda repubblica che era già finita ma è finito il berlusconismo attenzione è finito anche l'anti-berlusconismo sì che è quello che ha portato il partito democratico non dico a dileguarsi ma diciamo ad allontanarsi da quello che diciamo era il disegno originario per cui il berlusconismo e l'anti-berlusconismo sono un monito la crisi del berlusconismo sono un monito fortissimo per quella parte che per cambiare velocemente registro dentro la destra ma anche per la sinistra hai ragione non ne fanno bisogna fare una riflessione profonda sulle disuguaglianze bisogna partire dai bisogni sociali come ha detto Romano Prodi e il partito democratico deve tornare proprio deve uscire da quella logica quindi io non condivido tutti questi giudizi ideologici che hanno diciamo segnato una campagna elettorale la peggiore e non è bastata la lezione di una campagna elettorale che andando su questo fronte ideologico si sta replicando l'errore si sta replicando l'errore